No, non dimmi che proprio... Cos'è sto ro... E quello dovrebbe essere un'anguilla... Cosa bisogna farci? Eeeh... Un saluto da Darko e bentornati su Raiman Origins Oh, bene bene ragazzi, eravamo rimasti che dovevamo rimettere a posto lo strappo, lo squarcio E dobbiamo ammendare lo strappo Perché abbiamo abbastanza di quei cosi lì che sono gli Acton Eeeh... Quindi faremo quella parte strana, quella tutta con gli... Meglio proseguire Oh, ah, bene, però si parte dai tubi E vai, hai salvato abbastanza l'Acton per riparare il sentire e raggiungere un nuovo mondo Mmm, bene Quindi vediamo questi nuovi posti, vediamo un po' come... No, cos'è ancora... No, aspetta Preferivo quando c'erano quel tipo di arcobaleni Cos'è sta roba? Ehm... Musiche brutte Ah, aiuto Track No, li voglio tutti Ma è così ragazzi, vediamo se riusciamo a prendere tutti sto giro No, sia di no Forse dovevo aspettare là Vabbè, no, niente ragazzi Qua Mi prendono in giro Vai, 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 ragazzi che li prendiamo, li prendiamo tutti Una buona parte Sto giro lo riusciamo a prendere tanti E quelli là sopra come li prendiamo ragazzi? Come si prendono quelli? No, dai, perché? Lo vuol dire che dovrò rifarmelo quando ci avrò un tipo il doppio salto Non vale, li volevo tutti Oh, 167 Metti che a te 300 No, dai, vediamo 175 Perché è sempre di poco? Oh, eh, no, già C'è la parte, quella dove Ok Sempre questi posti di lava Però adesso Dov'è il moschito? Eccolo lì Dai, ormai siamo abituati al moschito Allora ragazzi Vediamo un po', vai Riusciamo a ucciderli tutti Più o meno Devo riprenderci la mano, no? Allora, vediamo così Oh, così Li facciamo fuori prima Vai Spammiamo lo spazio così Li uccidiamo prima No No, no, non ti ho fatto spazio Ah, ma Rimbalzano sti cosi Interesting, interesting, grazie Non sapevo che i tubi possono essere usati come diversivo per colpire gli altri Vai ragazzi Li prendiamo tutti sto giro Sì, beh, più o meno tutti Dai che ce la facciamo Non ti faccio scappare Oh, ragazzi Stiamo diventando pratici Sì, ma sicuramente ci sarà un boss Cosa, dove va? Dove stiamo andando? Dove, dove vai? C'è della lava Lava? Penso che sia lava Ehm, lì come si fa? Ok 187 Dice che Cos'è? Non si può Quello interesting Oh, oh, man Non l'avevo visti che c'era roba brutta Cos'è sta roba? No, la pignata là sotto Il ghiaccio qua nel fondo Dove c'è il caldo È normalissimo, carrega Perché dovrebbero scendere di qua? Come ti ghiaccio? Cos'è sta roba? Allora, aspettiamo il momento giusto Voglio prendere quelli Vai così Vai, non voglio essere schiacciato Apriti Cos'è sto roba? Ma cos'è? Cos'è? Ma dai, cosa brutta Oh, in una grotta Cambiamo un po' le ambientazioni, dai Oh mio Dio, ragazzi E quindi Cos'è? Ah, bene Punti Adesso io vado avanti Così ci muoio 259 Dai che arriviamo a 300 Forse era il massimo Dai, non dimmi che Cos'è sto roba? E quella doveva essere un'anguilla Cosa bisogna farci? Oh, dannazione Cos'è? Ah, dobbiamo distruggere tutte le cose Ma quelli sotto come li prendo? Ok, gliene manca uno Gliene manca uno Gliene manca uno, ragazzi No Ma era da uccidere Beh, siamo 300 No, no, no Dannazione Non me l'aspettavo Ah, no Dobbiamo rendere la più corta Ecco perché Non capivo, ragazzi Eh, no Sì, ma se mi vede l'altro lato Questo non si gira Non spara all'indietro Vai È rimasto È piccolo, è piccolo Aiuto Dannazione, ragazzi Dai Vai che gliene manca poco Ci abbiamo fatto? Tutti i miei Tutti i miei Tutti i miei 355 Vediamo quant'era il massimo, ragazzi Fa che sia Cioè, il 3 anche quello La cosa là in alto Cosa sarà mai? Sì, abbiamo completato quello In più, in più, in più, in più Ragazzi Che spettacolo E quindi Cos'è sta roba? Cioè, non un po' sconvolto Ma va bene Basta Oh, bene, ragazzi Ne abbiamo presi tantissimi Sto giro Quindi andiamo Oh, nuovo posto Mi sa che è sempre più difficile ancora Cosa Dove siamo? Mare della serendipità Va bene Mi sembra interessante Porto panico Ma che nome? Ma perché? Vabbè Panico perché c'è il fuoco Allora, vediamo un po' bene Ragazzi di Ah, fare qualcosa di bello anche qui Dai Dannazione Quello cos'ha? Una bomba Cos'è? Ah, così Ah E quindi l'abbiamo Cosa se Vola Cose Aspetta Forse riusciamo ad andare anche là sopra Vediamo un po', ragazzi Dai Uh, uh, uh Cosa c'è? Cosa c'è qua sopra ragazzi? Mi ho trovato un po' A caso? Dai, vai così E a caso? Eh, no Eh, sì, va bene Però Io mi chiedo Come uccido quelli di sto Ah, già Che Ah È difficile Cosa? Oh mio Dio, ragazzi Non ce la farò mai Mi bisogna Allora, forse quello riusciamo anche a ucciderlo senza No, ti scherzavo Vai, su Ok, uno l'abbiamo preso Uh, uh, ragazzi A caso siamo riusciti tutti Dimmi, li abbiamo presi tutti Sì Non so cosa, non so come Ma ce l'abbiamo fatta Vai così Non fate domande Ok, possiamo proseguire Adesso io ho fatto un salto a caso Ah, c'è un nemice attaccati alla testa Ma dai, cos'è? Dai, dai Stia fermo, lei Stia fermo Che devo salvarla Non so perché Ma preferivo andare sopra Sopra non ci possiamo andare Ma dovremmo salvarli tutti? Cos'è sta barca? Cos'è? Vai mi di là Vai mi di là barca Vai mi di là Che voglio provare ad andare nella parte sopra, ragazzi No No, 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 no Ok Beh, piano Oh Siamo sopra Adesso vediamo Cosa c'era Cosa c'era Poi è più difficile ancora Cos'è? No Io sapevo che dovevo proseguire sotto Ok Ok Tac Salvato anche questo Vai così Ah ecco Uh ragazzi è vero Ci danno un'abilità nuova Fatemi uscire Sì, sì No dove vai? Dove vai? E nel metro Dobbiamo anche salvare Sti coglioni qui No Cosa? Quello è andato su Non vale Dai Mi dia roba interesting Qui Oh è tornato No, ci sparano Ma dai Non vale Aiuto No è quello come lo prendevamo Aia Aia Veloci 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 Non abbiamo preso le robe Beh, ci alleniamo a fare quello a tempo Quando lo dovremmo fare a tempo Ehm Vuoi salve? No Perché? Abbiamo un cuore Abbiamo una possibility Oh che dannazione Io vado dietro a questo Ok Ci siamo Ma no Potevo passare sotto Ma perché? No Questo coso scende Questo coso scende Dove vai? Vieni qua Allora Vediamo se riusciamo a fregarlo No C'è la roba Dannazione Stai Perché non mi fai il colpo in basso? Ma dai Ma perché c'è sto coso? Non vale Ma ha messo Oh L'abbiamo preso Sì E che Stavete a vedere Che è Quell'abilità di qualcosa Per l'acqua Mi sa di sì Potere di immergersi Ok Possiamo andare sotto acqua Pesci Cosa ci può fare No dai I livelli sotto acqua Ma mi sa che sono belli difficili Aiuto Perché di solito quando Non sapevo Non lo sapevo Adesso ho dovuto tornare indietro A prendere gli altri Mi sa che là sotto C'è qualcosa Quello era qualcosa Che poteva uccidermi E non me ne sono accorto Non posso scendere qui Sì Mi fate scendere Si può scendere Si può scendere Passaggio segreto Ragazzi Che occhio che c'ho Si vabbè Cos'è Troppi Troppi C'è anche qualcosa di brutto In mezzo Che brutti questi Quando diventano grunfi Insomma io non vedo neanche Dove cavolo sono io Figuriamoci Ucciderli tutti Senza morirci Usiamo una strategia Sappiamo che c'è il raggio Dove Il loro raggio Per tenere chiusa la scatola E noi li uccidiamo così Fatto Easy busy Vai così ragazzi In basso Ok No 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 Oh mamma mia Ragazzi Ce l'ho visto brutta Uscendo Allora Poi passiamo Sopra sopra Vedo c'è roba Vai che ne abbiamo Prendere il più Ma scendi Oh mio dio No Oh bene ragazzi Almeno li abbiamo ripresi tutti Più punti Scendi Perché si castra sempre lì Ma c'è roba qua sotto Chi l'aveva Vì Quanti Rischio Rischio No no Cos'è Cosa Cosa No 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 Dai che ce la facciamo Riusciamo a non perdere il cuore Riusciamo 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 Niente Abbiamo perso il cuore Non importa No 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 Non sapevo Perché Perché hai fatto Questa cosa io Tu sta a me tranquillo No Io devo prendermi tutti Allora Veloce 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 Sì ragazzi Non so come Non so perché Ma ce l'abbiamo fatta Adesso non ci moriamo Dai A meno fammi riprendere il cuore Che sono salvo Una possibility Di non morirci malo Ma perché Odio i livelli nell'acqua Uh Sì Sì 240 Dai facciamo i tre Doviamo arrivare a 300 Dai ragazzi 300 No è finita la mappa Ma vai via Sono ancora sti così qua vecchi Ehm C'è qualcosa che Dovrò fare Fatto Ma dai No no Non arriviamo a 300 Ragazzi Ehm Addirittura abbiamo sbloccato Un personaggio Vai così ragazzi Allora Direi che proviamo L'ultima mappa Prima di concludere qui Vediamo un po' Di che cosa si tratta Pesce marcio Perché tanno sti nomi assurdi E le cose Vabbè Mi sa che Il livello si occupa Tutto in acqua Noi Tutta la mappa Sarà in acqua Cos'è quel robo Tra poco mi sa Che ci morivamo ragazzi Sì E anche malomodo Che cos'è No dai Cosa bisogna fare Io evito E basta Va Me ne vado Ciao Cosa sono sti spuntoni Dimmi un po' Io voglio vedere Sti E poi Cose Stavo dicendo Voglio vederli E farli A tempo Queste cose Come faccio Meduse Brute meduse Ci moriremo Un sacco di volte Quando dovrò Fano a tempo Però là sotto Mi sa che Devo per forza Andarla sotto Quindi Non mi mettete Le luccette Così Allora Sacrificando una vita Dove Destro a sinistra Destro a sinistra Vai giù Vai giù Prendiamoli Questi sono importanti Io non andrei sopra Perché vedo roba brutta Perché la vedo dappertutto Dove Io ci provo Aiuto Vai 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 Piano Tanto non stiamo facendo Quella attenzione No 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 Di lì no Di qui di qui Ma dai lì come si fa È tutto chiuso Vabbè No però voglio prenderli Stiamo scherzando No Vi arrendo Lo faccio quando li prenderemo tutti Quando avremo tutte le abilità Allora Avanti Così Però Mi sa che di là C'è qualcosa di interesting A pelo Non so cosa Ma ce l'abbiamo fatta Vai L'abbiamo preso un po' Ricopriamo quelli che abbiamo lasciato indietro Così Tanto parto da lì Spero Sì Ok Mi dia il cuore Oh Non così Eh vabbè Ma dai Mi stanno facendo male le dita Per tenere la corsa Aiuto Ma si avvicinano anche loro Non vale Così danzano Lo sapevo che sbagliavo Allora Allora Se ne va di Medusa Che devo passare io Ok Ora Veloce 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 Sì Così Vai così Vai andiamo avanti No 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 Cos'è Eh ok abbiamo No al buio Cos'è No aiuto Andiamo giù Però è bella questa mappa Mi sta piacendo Cos'è ne prendiamo altri Diventiamo più luminosi Sì vabbè ma Lì vedo cosa Vedo troppa roba brutta Mi seguono Andate via Si può Si potrà andare Veloce E com'è dove vado adesso Via 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 No 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 Eh sì Non vengo fin lì Devo per forza passare Ah 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 Dai ma Cos'è sto livello No non mi prenderete mai Luci Non vediamo le luci Aiuto Ecco Buon salve Qui Quello lo lascio Ve lo lascio Ve lo regalo È tosta È tosta Concentrazione Ah bene Passiamo di qua Ah meno male Abbiamo trovato un passaggio segreto Vai Che cos'è Mi è schiacciato Ritorna Allora forse A notare è più facile Cos'è Ti esplode No non passare di lì Oh Ci hai fatto male da solo Vai così E tu sei mio Ah ah Allora Vediamo un po' Ma basta solo toccarla O devo colpirla Non vorrei che se la colpisco Esplode subito No non esplode subito Vai Qual è lo scopo di qua Ah mi sa che i pesci comunque dobbiamo farli fuori Tutti Dite che devo usare la gentilissima Spero eh Che se non esplode Abbiamo fatto tutto sto lavoro per niente Esplodi Dite che ce la facciamo colpire No Ma non muore Vuota A pelo Non so come Ma ci siamo salvati Sì Non posso spostarmi Perché non si muove bene nell'acqua C'è ste movenze Delle balle Che ti chiedi Perché Non so cosa ma bene Manca uno E quello lo vedete ragazzi Riusciamo a tipo Bene Non so bene Per me Basta Ok Si ritorna in questo posto brutto Forse era meglio di là ragazzi Tu cosa sei Un pesce brutto No Buio così no Sì ma è cattivo quello Ma dai No Avevamo Lasciami No Abbiamo ripreso le luci Ma mi sa che là sotto c'è qualcosa di interesting A parte meduse Ok Permesso Ho preso tutto Ho preso tutto Via 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 Sì Vai così ragazzi Buono Buono Andiamo Vai Allora ragazzi Andiamo a vedere cosa c'è qua sopra Se non ci muoio male Dai No Maledizione Luce fu E noi dobbiamo tornare laggiù Allora Permesso che ho visto posto segreto Eh sì No Vai via Bene Dai ragazzi Ecco pesce brutto Vadi No 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 Allora ok Lasciamo andrà avanti Basta 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 Che cosa mi rappresenta Quell'artiglio lì Vai via che ho la luce io Posso uscire È vero sì Grazie Permesso Vado di qui Vado di qui Dove sono Non so ragazzi Se c'era roba sotto Oppure no No Noi proseguiamo lo stesso No 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 Ma andate via Mani brutte Eh Pesciolini Proseguite Eh Arrivo No le mani No 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 Vedi qui che Dove devo andare Non si vede niente Non so abbiamo un trotto uscito No ragazzi Non so se c'era qualcosa altro Non è che avevamo un cuore Però adesso non possiamo più sbagliare Ragazzi Eh ce ne manca uno Vai muori Sì Ragazzi Ridendo e scherzando Ridendo un poiché tanto Quello livello qua È stato bello tosto Ne abbiamo fatti 316 85 per quello in alto Guarda Può anche star lì Ma mi sa che ne abbiamo sbloccato uno indietro Ma ragazzi Mi sa che lo vediamo in un prossimo video Diamo giusto cosa ci aspetterà la prossima volta Pina da paura Mmm Altra mission sotto acqua E abbiamo quasi finito anche questa parte Wow ragazzi Non me lo aspettavo un po' così veloce Non so ancora Quante mappe mondi ci sono ancora Ma comunque Lo scopriremo molto presto Quindi ragazzi Se questo video vi è piaciuto E volete aiutarci a crescere Potete iscrivervi al canale Condividere questo video Lasciarci un bel like Un commento qua sotto E potete venire a trovarci Sui nostri social network Che sono Facebook e Instagram E potete venire a parlare A scrivere A fare quello che più vi piace Nel nostro server di Discord Che anche quello lo trovate Qua sotto in descrizione E che dire Da Darko è tutto E ad un prossimo video Ciao ragazzi